buon torno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono matilde e ristono ancora a casa di mia zia e mio zio oggi mio cugino c'è ma non vuole fare i video vuole stare in bici quindi l'ha fatto da me mia zia ok ragazzi ora noi andiamo tutti insieme facciamo i video su casa di mia zia aspettata ok ragazzi ci ristiamo andiamo a proposito ma passiamo io ti va perché mia zia ha due entrate di casa tre in realtà vero zia siamo sotto il sud io non ci capisco più niente qua o dietro di me ci saranno delle case in una di quelle ci abita mio cugino che sta andando un questo è il motore di mia spazio è il motore di mia spazio non lo potete vedere perchè non voglio vedere ci muoviamo questa è la macchina abbiamo entrato in casa che ha preso un pezzo di corteccio stiamo allo mezzo di due piani aia un quattro sulle camere queste altre qui c'è tutta la roba al mio cugino lì gara uno uno stiamo sul divano al fresco l'ho baciato è cascata e l'ho baciato eccolo per terra ok ragazzi cioè siccome mi zia due piani sono le scale per andare sopra vi faccio vedere una cosa che vedete stiamo andando al piano di sopra che è buio quindi aspettate siamo arrivati al piano di sopra e qui c'è una cosa fantastica la mia amore guarda guarda è il mio amore è il mio amore è il mio amore è un canino chiama ginger è difficile guardatelo 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 è un po' buio che non mi potete vedere stiamo riscendendo le scale c'è mio zio ok ragazzi so che questo video durerà troppo quindi l'accorcerò un po' ok ragazzi aspettate ok siamo di nuovo e farò un video dopo avervi fatto vedere quasi della casa tutto della casa ora faremo la corsa allora abbiamo la challenge stiracchioni ci serve un piatto poi ci serve le lucerne poi ci serve gli stiracchioni e un recipiente d'acqua io siccome l'ho già partito e l'ho visto si forse la barana l'ho messo nella cosa dello squishy perché la cosa dello stiracchioni si è brutta quindi non sapete come metterli e quindi apriamo non è del tutto aperto perché vedete queste cosette qua è aperto ma io siccome ho la mano grande si è aperto profuma ragazzi non so se vai vi carrerà comunque si sono sul divano ho trovato le lucertole sentivo una codina perché forse il dinosaurio perché sto leggendo quello dello squishy comunque se comprate gli stiracchioni se e dentro c'ho trovato questo non è così questo no vi arriverà con le cose da qua che non so da da colorare la mattina arriviamo e coloriamo tutti insieme nemmeno se mi prego ok mi c'è rimasto un po' di skifidol perché mio cugino mi ha fatto buttare lo skifidol sul disegno vedete c'è il dinosaurio vedete ok senti con la codina ci sono due disegni questo vuoi vedere i disegni no questo che è tutto da colorare di questo bambino che stira e di dietro abbiamo questo che il bambino sta stiracchiando uno un pochino più grande eccetera il mio cugino ha detto una parolaccia quindi guarda 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 la mia zia ha paura di tutto ma basta dire le parolacce allora io ho trovato questa che è gialla la fosfora molto piccola ha dei piccoli taglietti e un pochino ciccino mio cugino mi ha dato questo che è tipo uno stiracchione lori lo puoi stirare è uno stiracchione sì sì ed è morbido e mi sta portando giocattoli che a me non mi sono giocattoli guarda mio cugino mi ha dato un altro stiracchione oh è viscida una murena un brazzoletto lori devo fare il video basta si li metto qua da parte ecco papà si sono sul comunque questa zia è un pochino un grassottello un pochino un pochino un pochino sì domani questa blu è sottile ma molto sotto a questo così è sottile questa e poi sotto sono tutte morbide e sopra ha una venatura ha dei piccoli tagliottini come qui questa fruzia invece è normale non è un certo è normale è normale quindi allora ragazzi siccome non posso prendere l'acqua questo video cioè lo faccio lo sto facendo lo faccio e però eh sì sto cosando sto squishando no non sto squishando nulla e dentro mamma questo allora ragazzi ve l'ho detto io non posso usare l'acqua perché sono non posso andare su perché ci fa caldo e giù se è fresco quindi giù mia zia non ha una schifonina cioè ce l'ha però ho la camera di 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 Simone che è il bapo di mio cusino non è mio zio non è mio zio c'è una 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 mescolazione tra le mie famiglie ecco e allora io sto registrando sul come si chiama zia questo il congelatore sul congelatore e io sono a sedere sul divano guardate sono a sedere sul divano guardate